Vi siete mai chiesti cosa significhi perdere una parte di sé? È con un nodo alla gola che vi annunciamo la scomparsa di Giorgio Zito Bennato, un'icona della nostra cultura musicale. Prima di approfondire questo tragico lutto, vi chiediamo di prepararvi per un racconto che toccherà corde profonde. Ora entriamo nella notizia. È scomparso, all'età di 74 anni, Giorgio Zito Bennato, il talentuoso musicista italiano, lasciando un vuoto irrimediabile nella scena musicale. La notizia della sua morte ha colpito come un fulmine, un'onda di tristezza che si è diffusa rapidamente tra i suoi numerosi ammiratori. Era il fratello di due altre grandi figure della musica italiana, Eugenio ed Edoardo Bennato, formando un trio che ha contribuito in modo significativo alla ricchezza e alla diversità della nostra cultura musicale. La notizia della sua scomparsa è stata condivisa dal fratello attraverso il potente mezzo di comunicazione di massa, che è Facebook. Edoardo Bennato, visibilmente colpito dalla perdita del fratello, ha condiviso la notizia con poche ma toccanti parole. Addio al più piccolo di noi tre, il più saggio di noi tre. Unisciti a noi nel rendere omaggio a Giorgio Zito Bennato, scrivendo ripi nei commenti in memoria di questo grande artista. Queste parole, cariche di emozione e di un profondo legame familiare, ci offrono uno sguardo intimo sulla relazione speciale tra i fratelli Bennato. Giorgio non era solo un musicista straordinario, ma incarnava anche la saggezza del trio, il suo contributo irripetibile alla loro musica e alla loro vita. Queste poche parole, scelte con cura da Edoardo, sono un tributo commovente a un uomo che ha segnato la storia della musica italiana. Oltre alle note e alle melodie, Giorgio Zito Bennato rimarrà nei cuori di coloro che hanno amato e apprezzato la sua arte. Giorgio Zito Bennato, insieme ai fratelli Eugenio ed Edoardo, aveva formato un trio musicale fin dalla più tenera età. Ma prima di continuare, se ti piace rimanere aggiornato sulle notizie più recenti, non dimenticare di iscriverti al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Nelle immagini postate dal fratello, possiamo vedere i tre fratelli in tenuta calcistica, testimoniando una vita trascorsa insieme e una carriera artistica che ha segnato la storia della musica italiana. Giorgio Bennato, noto anche come Giorgio Zito, aveva un ruolo nelle percussioni all'interno del trio. Hanno esordito a bagnoli ancora bambini, segnando l'inizio di una straordinaria avventura musicale. Giorgio Zito Bennato aveva partecipato all'edizione del 1980 del Festival di Sanremo con il brano Ma vai vai. La notizia della sua scomparsa è stata condivisa questo pomeriggio dal fratello Edoardo, che ha pubblicato alcune foto di famiglia, ricordi felici che abbracciano la loro vita privata e la carriera artistica condivisa.